9. 1. 2. 1. 1. 4. 5. 6. 8. 9. 15. 16. Il gruppo si porta in vantaggio, ecco l'ho qua, il Juco, quando manca due, il puscianone, mentre sulle tanti tre, sempre in qualità, offre il Hitler. Il gruppo si porta in vantaggio, ecco l'ho qua, il ruolo centrale, andiamo a prima sanzione, doppia presa, prima sanzione 1.47, mentre sulle tanti due, sempre in vantaggio, Euro, Juco. Uno è 26 sui due, uno è minus su tre, adesso è Hockerle che cerca di rompere le tese per attaccare, e adesso è Hockerle che è un cuore, non mi è rinforzato ancora a parità, 56 secondi, mentre sulle tanti due, sempre in vantaggio, non mi so, ecco l'ho qua. La tanti tre, mettiamo tutti in vantaggio, ed è il pon, è il pon sul tanti due, ed è SIGOF che va a ribaltare questo incontro, SIGOF che va a ribaltare questo titolo, mentre ritorniamo sul tre, doppia sanzione a Hockerle, quindi è passato in vantaggio, il tempo, in questa finale è il 2.73, the win is newly SIGOF che va a lasciare, e adesso ci sportiamo sul tanti tre, l'ultima in vantaggio, in 10 secondi, sempre in vantaggio, Hitler su Hockerle, ormai, ormai, e in 4 secondi, cerca prima di ricevere questo vantaggio, e va Hitler! Isaich Kilos, è la guerra Hitler! Ossia! E adesso passiamo... Grazie.